Ho in mano una statuetta del Dio Ganesha, il Dio dalla testa d'elefante. Non ha solo la testa d'elefante, ha anche il ventre elefantiaco prominente. Comunque c'è una storia bellissima per me sul Dio Ganesha, che è questa. Ganesha ha un fratello, Kartikeya, e Kartikeya fratello di Ganesha non ha il ventre prominente, no, ha il ventre piatto, ha la tartaruga, lui è un Dio guerriero e atleta, ha i muscoli d'acciaio di immensa forza e agilità. Allora, accade una cosa, accade che Ganesha e Kartikeya si innamorino di due donne. Ma non si innamorano di due donne, nel senso che si innamorano ciascuno di una donna, no! Disgraziatamente si innamorano ciascuno di due donne contemporaneamente, solo che sono le stesse due. Ma guarda che veramente è la sfortuna. Buddhi e Saddi, queste due donne, come uscire dall'impasso, come fare, come agire, fanno una cosa che non è bellissima, non è molto politically correct, decidono di giocarsele in una scommessa. Non è bello, però è comunque un mito, è una storia in cui uno dei due protagonisti ha la testa di un elefante, cioè non stiamo a sottilizzare, stiamo a cogliere il significato metaforico. Allora, a cosa ce ne giochiamo, si dicono. E Ganesha propone a Kartikeya, facciamo una corsa, una gara di velocità. A questa proposta Kartikeya è il dio atleta, non sta nella fede, sì sì, una gara di velocità, va benissimo, quando vuoi, quando vuoi, guarda, te lo volevo dire io, te lo volevo dire io, che percorso facciamo? E Ganesha dice, ma guarda, facciamo un percorso molto bello, partiamo da qui, corriamo, 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 facciamo il giro del mondo e ritorniamo qui. Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Allora si mette in posizione, no, per partire, no? Kartikeya vuole fare una corsa eccezionale, si mette lì pronto, sai, come i corridori ai blocchi di partenza. Mentre Ganesha rimane seduto comodamente, mollemente, con le mani incrociate sulla pancia. E Kartikeya gli fa, ma tu non parti, sì sì sì, papa, sì sì sì, tu vai, tu vai, che poi io vedrai che ti raggiungo. Allora insomma, tre, due, uno, vea, a parte, scatta come un razzo. Kartikeya corre più veloce che può, con le sue gambe muscolose, agili e forti, macina miglia e miglia e miglia e miglia e miglia e miglia e miglia, dopo un tempo lungo, ma comunque incredibilmente breve rispetto al percorso, riesce a tornare al punto di partenza. Ha fatto una corsa e al punto di partenza trova, chi trova, chi trova, trova Ganesha seduto in terra, con le mani incrociate sulla pancia, che lo guarda e gli fa. Mi dispiace, come vedi, ho vinto io, sono arrivato prima di te. E sei arrivato prima, sono già qui, come vedi sono già qui, e sei arrivato prima. Ma tu non sei neanche partito, sei stato seduto qui, ma come non sono partito, ma veramente sei così malfidente? Ma che incredibile, ma sei veramente malfidente? Guarda, ti dimostro, ti dimostro che io ho fatto il giro del mondo, ho fatto tutto il giro. Ti spiego. Come fa a dimostrare Ganesha a suo fratello che ha fatto tutto il giro del mondo? Comincia a raccontargli, gli racconta quello che ha visto, gli racconta il percorso che ha fatto, gli racconta le città che ha attraversato, le foreste, i deserti, i fiumi, che ha visto i laghi, il mare che ha lambito, i deserti, le rocce, le montagne, tutto. Gli spiega tutto, gli racconta tutto con una tale minuzia, con un tale dettaglio, con una tale vivacità di particolari che Kartikeya si arrende. Kartikeya dice, va bene, mi hai convinto, hai corso, hai fatto il giro del mondo. Ovviamente, qual è la verità nel mito, qual è nel mito la verità che Ganesha non si è mai alzato da terra e è rimasto tutto il tempo seduto con le mani sulla pancia. Ma, come ha fatto allora a descrivere così bene il mondo, perché nella mitologia hindù Ganesha è il dio che ha letto tutti i libri, anzi, che li ha studiati tutti, anzi, che li conosce tutti a memoria. Fantastico. Ora, qual è il senso di questo mito? Il senso di questo mito non è per me che la letteratura, lo studio, deve sostituire la vita. No, no, no. Al contrario. Che i libri, la letteratura, la conoscenza tramandata tramite le pagine è un grandissimo prolungamento della vita, è un grandissimo potenziamento della vita, è una grandissima estensione della vita, ci fa vivere di più, ci fa vivere più riccamente. Vi faccio un esempio personale, una piccolissima storia personale. Qualche estate fa ho trovato nella mansarda dove faccio i video un'ape, un insetto che io credevo fosse un'ape. Siccome avevo la bambina piccola, siccome era già successo che un'ape fosse entrata e mi avesse punto, ho detto che l'ha ucciso, l'ha ucciso prima che faccia del male alla bambina. Ho ucciso l'ape, dopodiché l'ho osservato un po', ho detto che strana l'ape, che strana l'ape. Ha due occhi che non sembrano occhi d'ape, sembrano occhi da mosca, non ha quattro ali, ne ha due, ma che strano. Però vabbè, l'ho lasciato un po' cadere. Poi dopo qualche tempo, settimane, mesi, non ricordo, incuriosito dal mondo degli insetti, mi sono messo un po' a studiarlo, ho letto qualche libro, ho letto qualche pagina sul web anche, e ho scoperto una cosa bellissima, che esiste nell'ordine dei ditteri, un sottordine, che è quello dei bracchiccioli, cioè delle mosche, di cui fa parte una famiglia, che è la famiglia dei sirfidi. Sì, cosa sono i sirfidi? Sono delle mosche, diciamo così, parole povere, nere e gialle, a strisce, che per un profano possono sembrare api, ma non sono api, e sono le macchine volanti più perfette della natura. Sono in grado di fare il volo stazionario, sono in grado di volare all'indietro, in grado di volare di fianco. Insomma, una meraviglia. Adesso, quando io porto mia figlia a scuola, se è primavera, quando passiamo di fronte a una siepe che troviamo nel tragitto, a volte vedo dei sirfidi, e li rifaccio vedere. Guarda, guarda Agatha, i sirfidi, sono le macchine volanti più perfette della natura. Perché io posso indicare i sirfidi a mia figlia, farli rivedere, farla meravigliare di questo? Perché ho visto un sirfide in carne e ossa, e l'ho ucciso? No, perché ho letto dei sirfidi. Cioè, quando è che ho conosciuto i sirfidi io? Quando ne ho letto e studiato, o quando ne ho ucciso uno? Faccia a faccia, faccia a faccia, non ha la faccia, vabbè, ci siamo capiti. Non so se mi spiego, non so se mi spiego. Io credo che sia veramente una grandissima estensione della vita, la cultura, un grandissimo potenziamento della vita. Ma meglio di me, prima di me, l'ha detto Umberto Eco. Umberto Eco che ha detto, se tu hai 70 anni e non leggi, se tu non hai mai letto, a 70 anni hai vissuto 70 anni. Se tu leggi, a 70 anni puoi essere più vecchio di Mattusalemme. Perché eri già lì quando Caino ha ucciso Abele, eri già lì quando Renzo e Lucia si amavano, eri già lì quando Leopardi ammirava l'infinito. E a questo bellissimo elenco, potremmo aggiungere, eri già lì quando Ganesha buggerava suo fratello Kartikeya, in questo modo ignobile però, simpatico dai!